Tu hai partecipato a campioni in Istat e rappresenterai Istat, correrai per promuovere il censimento della popolazione, le tue sensazioni da corridore per una causa importante? Guarda, questa è la prima volta che faccio questa gara e sono emozionatissimo anche proprio per questo motivo, insomma, ne ho fatte altre di gare ma questa è particolare proprio perché insomma faccio parte dell'istituto e quindi porto avanti una causa giusta, insomma. Quanto è importante promuovere il censimento? È importantissimo, insomma, in questi dieci anni vedremo svilupparsi tutto il censimento appunto della popolazione per dare un modo di conoscere la numerosità della popolazione italiana. Promuovere il censimento è importante perché riguarda tutti noi, farlo correndo dà la sensazione che tutti noi siamo campioni, tutti noi possiamo vincere e speriamo che vada bene, che non trova troppo. Sottolineerei l'aspetto di campione nel senso di sotto insieme, non tanto, di atleta campione. Corro perché mi piace e quindi ho servuto di questa opportunità offerta dall'Istat e mi sono iscritto. È divertente perché nell'intra ne sono descritto i dieci, gli otto atleti più veloci. In realtà era più veloce iscriversi e in quello sono stato veloce. Come ci si sente come portabandiera del censimento in una maratona? Abbastanza bene, speriamo di riuscire. Io ci provo, comunque lavoro proprio per il censimento, quindi mi fa ancora più piacere questa cosa. E comunque vada, mi sarò divertita e l'avrò fatto anche per il censimento, quindi sono contenta. Perché è importante promuovere il censimento anche con gare sportive? Forse visto che la manifestazione è molto diffusa e molto partecipata, potrebbe essere un buon mezzo di comunicazione e quindi coinvolgere forse più persone a compilare il questionario per il censimento. Sì, comunque questa qua è stata una bella sfida per me perché non corro da anni, solo dietro a mia figlia. Per questo è stata lì stata portata. No, sì, sì, diciamo che non corro neanche dietro al pallone, sicuramente così, però è stato bello. Grazie, grazie. Ciao. Ciao. È stata un'esperienza unica, ragazzi. Come i nostri campioni, siamo veramente unici. Però devo dire che ho visto tanta gente appassionata con una grande voglia di partecipare. Mi è sembrato un po' come quando svolgiamo i lavori per il censimento, no? La squadra, tutti insieme, e anche la nostra rete che ci aiuta a recuperare. Grazie. Mi raccomando, compilate, rispondete, scegliete la modalità che preferite, ma fatelo perché è importante, fatelo velocemente perché ci teniamo a dare a tutto il paese le risposte che aspetta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.